TUNZ, 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 TUNZ ONLY CREPS, Biciosi quanti ragazzi, sono Bezevossa e sono tornato con un altro episodio della nostra serie, del nostro let's play su Untarned Come sempre sono insieme a, vaffanculo lol, volevo coprirti, vabbè comunque, allora ragazzi stiamo recitando subito dopo, abbiamo preferito che facesse giorno perché è meglio così ragazzi, infatti mi sono anche tolto l'elmetto E così non consumiamo elettricità che tanto è infinita Spero che vi sia piaciuta quella piccola clip ragazzi, non sapevo cosa dire, allora il TUNZ, TUNZ era sottinteso, però la frase era un po' diciamo ad minchiam, non sapevo cosa dire Però veramente fantastico, una discoteca in compagnia dei signori lampada, veramente, sono nostri compagni di avventure, ci schiamiamo sempre un sacco di nozioni, di storielle, di avventura, di seconda guerra mondiale Guarda che alto che sono Ma lol, parkour tra i signori lampada, vediamo No, non ce la fai Lol, quello qui vicino però Eh infatti E' un salto Perché stiamo perdendo tempo? Eh sì, allora, se non mi sbaglio, il signore se è un 14 qui vicino, mi è detto che devo fare dei wooden pillar, vero? Sì, perché dopo ci metteremo le pareti Allora, i wooden pillar si fanno su foto appunto della wiki di Untarned con due wooden support mi pare O non mi ricordo quanti Sì, ma vabbè basta che tu li fai in quantità industriali Beh ho fatto quattro wooden support e otto stick, va, lasciamo così Quattro wooden, allora quattro wooden support e cos'era poi? Wooden support e board Board, la board si faceva con E log E log, sì Se non ti dispiace io vorrei prendere la macchina per andare a guardare in città per prendere cose che non posso spoilerare Altrimenti faccio spoiler per episodi futuri Wooden pillar Quanti ne faccio? Quattro Vengono giù No, non vengono giù Quanti ne ho fatti? Eh uno è per terra e lo prendo io E lo piazzo io Ah no Ok, l'altro è quattro, lascio per terra Sono andato un attimo in confusione con le quantità Io adesso ho Ho due board Quindi ho esaurito i wooden foundation I wooden foundation che si facevano No, ma i wooden foundation non ti saranno niente No, no i wooden foundation, scusa Come stanno in bidico ste robe? Eh no, così le fa mettere Aspetta, ho già scordato cos'è che dovevo fare Allora, i board li ho ancora E i support che si fanno con stick Esatto, esatto Quindi più Quanti stick hai? 8 Ma sì, faccio tutto Quindi Adesso occhio e croce Ho quattro wooden support e due board Dovrebbero venire fuori due cose giusti Esatto, perfetto Signore, ecco a lei i due Wooden peerlar Eh, peerlar, scusa Eccoli qua Ah che belli che sono, cazzo Sono fierissimi E così la nostra bella casa sta prendendo forma Ah che bella, manca solo il garage Il teto e le pareti Eh, si può fare il garage volendo? Sono il re del mondo Sono il re del mondo Jack, tienimi Sto volando Guarda, se non la smetti di fare ste cazzate Ti sparo Ma no, ti prego È stata baum 360, 360, no scope, quick scope Con questo ti sparo Vaffanculo Non ci credo, sto morendo Non è vero 52 di fame, 58 di... 58 di sete Di seta Non salto in città prima di Eh, magari troviamo qualcosa già... Eh, lo pensavo anch'io, lo pensavo Vuoi che andiamo in città? Ma non quella città Quella dopo la military base Che se sei da qua si vede tutta la mappa Sì Ah buon dai, decida lei Andiamo No, no, guarda Vieni qua sopra Ciao amore Si vede tutta la mappa? Sì Lì c'è la città Ovvero Praticamente c'è Bariwood Quella lì Ma noi dobbiamo andare a quella metà strada Tra la O'Learni military base E Wooden foundation Quella là No, quella Quella è la military base vero? No, no Quella dove è la confederation bridge Confederation Ah, d'Alberton Ah ho capito, sì No, ma aspetta Quella lì che si vede la È la base militare vero? Sì Ah ok Vabbè andiamo allora, dai Perfetto Allora Fammi vedere un po' cosa posso mangiare Allora Cioè Ma poi hai disboscato tutto Eh sì Infatti non si sono ancora formati gli alberi Perché è appunto di seguito Eh, cosa c'è la terra? Cosa? Beh, c'è qualcosa la per te No Non mi fa fare malci indio, santo Si incastrati? Ma no, ma Non siamo incastrati, guarda Non mi È che non mi fa fare malci indietro Prova a te a guidare Perché non fa spino? Siamo incastrati Sei incastrato? Sono sciuto Meno male che ho un carjack Ah, stavo dicendo di doverlo avere io Ma non ce l'ho Guardate il 360 Come si usa? Appunto sulla macchina Opla 360 sulla macchina Cos'è caduto là? È un gas can Ma è vuoto Anzi è quello che ho drappato io No, spallo, spallo Andrea Rifallo Cosa? È il 360 Perché non ci siamo sbloccati Ma prova a restare in macchina Dici come Devi usare il carjack Andrea Ancora? Eh, sì Ah, ma hai finito il carjack Giusto No, beh, sì No, no, smotta, smotta Secondo me ne stavo vivo Sì, buona Minchia Mi è preso un infarto ragazzi Perché tu hai le macchine Puoi usarle E se ti incastri Hai anche le robe per tirarle fuori Puoi anche ripalarle con la blowtorch Eh, sì E c'è anche un altro oggetto Io sto cominciando ad andare in riserva di cibo Deee, sono 64 anche io No, dico riserva perché Stavo usarendo il cibo E io non c'ho niente Madonna, i ca I cani di vegetables danno un sacco di cibo Gioco da vegetariani Lol Tra l'altro noi dobbiamo trovare anche un piccone Perché dopo potremmo prendere il nutrimento dalle bacche Che non vi abbiamo neancora fatto vedere O sì nel primo episodio Perché bacche piccone? Perché se tu usi le bacche E se vai a minare una pietra Sì Ti viene la pietra che puoi fare le Le crushed berries Che sono buone da mangiare Non vedo l'ora Anche quelle normali sono buone da mangiare Però ti fanno venire delle allucinazioni Lol Fetti secondari E tu devi provarlo Ehm È giusto far vedere tutto Allora Tutte le case guardiamo dai Allora Cane di cola Che non mi serve Prendila Prendi tutto Clot Eh ma io me la bevo subito Ah non l'ho sentito Fai bene Una pistola Un magic clock Lo prendo così fa Clot Una pizza Non posso prenderla Peccato Ho visto uno zombie Anzi più che altro ho sentito uno zombie Ma dov'è? Lol ho preso un colpo Ce l'ho io Sì ho visto Abbiamo la pizza e il caffè Sulla pizza c'è molto più cibo C'è un sacco di roba C'è canne di cola Prendi prendi Candy par Granola bar Qui non c'è niente Cazzo Gambizzato Mi ha colpito Un altro dietro C'è un Roba Andrea Roba Mi hanno colpito Qui non c'è niente Giuro C'è una mole di carrot Mol di milk Eh ma la carrot Prendila per i semi Per la farm Spoilerato Lol Avevi già mostrato Anche qui scusa C'è poteto Cabbage E corn E tu che spazio Vieni a prenderle Così abbiamo tutte qua No No Ah scusa Aspetta Comunista Cazzo 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 Questo sangue Mi piace sempre di più Cos'è che devo prendere? Ehm Quali Poteto E qua dentro il frigo Eh non ho più spazio Allora aspetta Fammi fare Fammi qualcosa da mangiare Allora Qualcosa da mangiare Allora qualcosa che Allora tienila candy bar Drop Poi Allora aspetta Dove l'hai cagata? Per terra Ho cagato per terra Perfetto Facciamo sempre più spazio Oh adesso Ho tre slot Addirittura Caputana Ho paura Cos'è che devo prendere Hai detto Questo? Non me fa lagare Quel Robo Eric E cabbage E corn A me no però Meglio uscire Dove cazzo sono Ho 49 di sete Allora Facciamo così Eh beh 49 di sete Bevi questa Che mi libero spazio No mi sa che da Mi sa che da molto di più Mi sa di 50 Stavi parlando di semi Provo a bere una bottle water normale Vediamo quanto da Penso 50 E volevi che mi bevessi la large Che ho 49 di 7 Esatto Comunque Metti sui craft Bevi dopo metti su crafting Sì da 50 merda ho sprecato un 1% Ah capirai Metti I vegetali su crafting E ti vengono fuori semi Perché qua dentro ci sono altri semi da accogliere Intanto faccio un po' di devasto Bam 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 Sbam L'hai fatto Sì sì No nel senso Ma li vuoi tutti i semi di voi Sì No ma devi tenerli te Ma perché stai mangiando Eh lascia perdere Lercio Ah ma non è lercio È lercio Con la è larga È lercio Ho 3 di fame E 1 di 7 Bene E mi prendo anche dei rag Attento Cosa Ho sentito Ah Non so Sta venendo nessuno Di Allora ho Skills Ho 56 di esperienza Ancora pochetto Vediamo se riesco a mettermi un Mi metto un craftsman 2 Sì No Sono inexperienced Però se magari fai i semi Eh Eh vieni a prendere anche gli altri semi che sono qua Che almeno fai stack Ah sì giusto Mazzo sti due zombie così prendo sempre esperienza Tomato seed Tomato seed E Potato seed Quanta Quanta radioattività hai? 87 Ma scherzi No Io 18 Ma tutti i colpi dei zombie Qua Andrea I semi devi fare Ah Lo prendi di tecchi Hai una memoria? Sì No allora Tu vai nel inventario Eh I vegetali li metti sul Sulla tavola del crafting Ah sì No ho già Ho un potato seed Un cabbage seed E un corn seed Eh Ah no è la carota Ho dimenticato la carota Ecco adesso puoi raccogliere questi che ci sono qua Eh no ma tranne Tranne il Tomato Quello non l'ho Il tomato seed non ce l'hai? Eh c'è solo il tomato seed guarda No ma c'è anche il potato seed Dove lo vedi? Eh su un scaffale in basso Ah sì Non c'ho spazio per il tomato Prendilo te che il tomato è sempre In teoria Quella più ti sarebbe il potato seed Che è quello che dà di più alla fine Ah E il tomato è buono il tomato Ma si l'hai preso tanto vai Ci aumenta l'ala di attività il tomato No scherzo Qui c'è tanti Eh c'è clot Eh c'è clot si però non ho più spazio No no Ma noi siamo pieni di cure Eh lo so Non ci servono i clot Dobbiamo fare una cassa così mettiamo le cure E possiamo farne sempre di più Aspetta Andrea guarda Cosa cosa Se vieni qua Questo zombie ha droppato una note Guarda aspetta Alla testa incastrata nel marciapiede Una nota Cosa dice? Aspetta Scrivo Wright F Come Wright F? Mi fa aprire l'inventario Perché sto scrivendo io Guarda Leggi Sei la merda Te lo fa vedere sul serio Prondo Estro Non so scrivere Come cazzo esco? A F No Wright Devi premere Dov'è Wright? Ah si Si legge Aspetta Belzobosso e Lezzo Come Belzobosso? E' vero? No Sì un attimo Wright E adesso? E adesso? Eh si Comunque avevo scritto Avevo scritto Se con 14 lo prendi in culo LOL No No Non è vero Si è verissimo Invece Te lo dico io Fidati Che schifo Quanto clotto Mio Dio Quanto clotto Sprecato Vado a vedere il resto Della città Della città Citosa Citante Cittadina Guarda Guarda Un altro libro da scrivere Guarda Guarda Aiuto Ti tappezzo La faccia Ti luto La faccia C'è una Large Water Di nuovo Mia Mia Che si impilano E c'è anche un carrot E c'è un apple juice box Tra amore e l'altro Ma me lo bevo io Vai vai Qui c'è la farmacia Se non mi sbaglio Vero? Si in fondo Dai riusciamo a prendere Il prendibile Qui ci sono Qui ci sono andato Non mi pare Una mazza da baseball Non ho trovato una mazza No si l'ho trovata Scusa LOL E un La tua simpatia è paglia a zero Si Spoglio qui in diretta Basta No Si Ok Ho trovato un outfield C'è chi ne ha sopra Signori Sono io Con un solo colpo Guardate Guardate Quello zombie Lì L'ho ucciso Vediamo un po' cosa c'è Dentro la farmacia Allora abbiamo Spero ci siano Morfina Un Rag Ma ho paura Eh no Sta venendo uno zombie Serio? Eh ma no L'ho visto io Quindi L'ho intercettato Bravo Mi piace quando intercetti Gli zombie Ma che guarda C'è un altro Raph Prendi la morfina Morfina? Mia? Drogato Sei un drogato di merda Ah si Allora come stanno gli items? Mi faccio un'iniezione di adrenalina Giusto perché Dov'è sto zombie? E' qua Che ha visto? Me Ok Io magari ammazzo quello lì Là in fondo In fondo No no Qua c'è un bandage Andrea Ma non c'ho spazio per il bandage Eh allora me lo uso io Ma si usa tutti i bandage Che vuoi cazzo Tanto Tanto Non moriremo mai Due minuti e muoio Il craftsman No Immunity Ho messo un altro immunity Lol E allora farò io le cose No dai Da livello 2 Da livello 2 c'è poca roba C'è la chest grande C'è la mob Ma è necessario stare ancora qui Eh Dobbiamo prendere robe Un altro Ah si che bello Un altro generatore Così possiamo Espandere il raggio Dei nostri signori lampada Allora Altra morfina Su serio? Si Dove? Dentro una tenda Un poncio Eh vabbè tanto Da sempre 3 di clot Esatto Ma tanto siamo a A quanto? Siamo a 20 rag 4 blood bag 7 antibiotics Non moriremo mai Andrea Non credo Eh gli antibiotics Dovresti darmi No io Ho 6 vitamins Sì io Me ne bevo Giusto un paio C'era quello C'era quello che Si era dentro Non ci credo Ah che figlio di puta Gascan Vabbè dai Sai cosa? Cosa? Tu esplora di sopra Esplora di sotto E tra poco Non c'è niente di sopra Ho già guardato Mi sono rotto una gamba Ho semplice Attento che c'è anche di A Sì E c'è una zombie anche di sopra Eh ma porca puttana Mamma mia Cos'è? Cane di soap Buonissima E io ho trovato La mia arma preferita Sì Vieni sopra Te la faccio vedere Però Eric ho bisogno di spazio Per il cane di soap Veramente Ho bisogno Devo buttare io qualcosa Veramente? Il gas can L'ho butto via Sì tanto Anche io devo buttare via qualcosa Per Per Il cibo importante Sì ho c'è il tuna LOL Me lo bevo Te lo mangi? Sì E io mi faccio un paio di vaccini Giusto perché Ho la redattività A livelli C'è niente qui sopra Sì qua L'arco Compound Che è bellissimo Mi piace È mio Va bene ragazzi Direi che da qui dentro Possiamo concludere l'episodio Io che sono il capitano Di questa nave Vi saluto E ci vediamo con il prossimo episodio In cui Probabilmente Non dico che Termineremo la costruzione Della casa Però ci avvieremo Verso la fine E spero di Spero più presto Di costruire anche La cesta La cassa E quindi ragazzi Per questo video è tutto Ciò per il suo video Un saluto per Zbossa E da Saronquata Odici Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti